ciao a tutti ragazzi benvenuti e ragazzi siamo qua finalmente con un nuovo video di fortnite ragazzi allora sono uscite se voi andate a vedere qui le missioni della drama e oggi le andremo a fare ma lo c'è sta porca no vabbè però l'abbiamo fatto e il primo è andato eh no si cercava e quello cos'è? credo che appartenesse a lui Doom un prototipo un presagio probabilmente anche un prototipo per me lo chiedo a più da vicino perché io? sei la protagonista di una profezia oscura tocca a te non so qualcosa pensavo che mi avrebbe rallegrato vedere questo monumento in rovina ma invece se sento solo un senso di vuoto deve essere il vaso è travolgente ma anche spaventoso caotico e incontrollato usare di nuovo il vaso senza prima potenziare la mia armatura sarebbe un incauto ma non dovrò aspettare molto la mia opera è quasi compiuta quando tutto sarà arrivato a mia immagine non fallirò mai più non fallirò mai più lo renderò perfetto e lo farò con mano centile lo sottometterò con il pugnino di ferro ok lo sottometto uno ok questo operando questo via si sta costruendo una nuova armatura chissà dove usa la tecnologia per controllare il suo esercito beh se non altro posso smettere di pensare a come sconfiggere una doom e concentrarmi su come lo troveremo ho molto a cui pensare ci vediamo più tardi ok ok mazza che bello regà ho lisciato tutti i colpi vabbè comunque sono migliorato cioè questo è poco ma sicuro c'è da laggiù no vabbè regà ok vedete che per esempio con il banco va molto meglio per esempio va bene io vi saluto vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale per chi non si fosse iscritto rimanere sintonizzati sul canale per ulteriori video che usciranno appunto in futuro e noi ci ribecchiamo con un prossimo video dal vostro Zabbaio 1.03 vi ricordo anche di commentarmi sotto nei commenti e di condividere questo video con tutti quelli che vi pare noi ci ribecchiamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti